Chi è? Detto questo, Luigi, partiamo, ti faccio una domanda generale, che è quello che è emerso negli incontri di cui parlava la Nadia prima, e cioè questo, noi vorremmo essere aiutati a capire cosa è successo in questi tre mesi, no? Lo sappiamo poi che passi fare per riprendere, no? Per questa ripresa che ci aspetta nei mesi futuri. E vorremmo capire quello che è successo da questi due punti di vista. Primo, l'adesione al reale, no? Perché, voglio dire, i mesi di lockdown hanno dato un'immagine della realtà, hanno fatto conoscere una realtà un po' strana, che era ridotta quella di casa, no? E in alcune lezioni che faccio, che facevo, spero che adesso sia cambiata, ma mi è capitato spesso di domandare ai ragazzi cosa avessero fatto nel weekend e di sentirmi rispondere, non sono ancora uscito, no? Come se non ci fosse quasi più voglia di uscire a riprendere la vita. Allora, primo il rapporto con la realtà, no? Che cosa ci ha portato? E quindi tutta la questione di una capacità di dire di sì, di aderire, di muoversi, una capacità della libertà. E secondo, l'altro effetto che ti chiederemmo di chiarire bene, è nei rapporti, soprattutto i più piccoli, no? Che sono stati per mesi solo con la mamma, col papà, con i fratellini e adesso devono riaprirsi agli altri. Cioè, si parla di rapporti parlando di distanza. Mentre un rapporto ha nella sua natura la vicinanza, adesso le parole, anche a livello di linguaggio, c'è un distanziamento sociale. Si può stare insieme, basta che si stia a distanza. Questo è strano, cioè non siamo abituati a questo. Allora, che cosa comporta? Che cosa ci puoi dire per riprendere, appunto, per iniziare questa ripresa? Grazie. Va bene, allora, grazie Don Marcello. Allora, vediamolo ora. Massimo 20-25 minuti perché poi è bello se vediamo proprio le domande specifiche, anche se questi sono dei macro temi che Don Marcello ha posto in modo così preciso e puntuale. Allora, cos'è successo? Io ormai sono persuaso che questo virus sui rapporti, sui corpi, ha fatto tanto, ma sui rapporti non ha fatto moltissimo. Nel senso, questo virus, quello che ha fatto è stato quello di evidenziare quello che c'era già, quindi di metterlo più in luce. Allora, per cui cos'è accaduto? Che dove le cose andavano mediamente bene in famiglia hanno continuato ad andare mediamente bene. In qualche caso è andata persino meglio. In qualche casa e in qualche caso è andato anche meglio. Per cui ho sentito di ritrovate e riscoperte fratellanze, sorellanze, fratelli che non si parlavano più hanno ripreso a giocare insieme, a trafficare, a fare qualcosa. I coniugi, sposo e sposa, hanno ripreso a parlarsi, hanno sfruttato l'occasione della... Pensate, quant'è che non mangiavamo pranzo e cena sempre insieme, tutti in casa, sempre seduti a tavola. Per qualcuno è stato un tormento, ma per qualcuno è stata anche l'occasione di una ripresa di parola, di atti di cortesia, di gentilezza, di attenzione rispetto all'altro, che magari la distrazione di tempi sempre concitati faceva mancare. Allo stesso modo, dove la situazione era appena appena all'equilibrio, dove la possibilità di avere un fuori, una valvola di sfogo, il poter uscire è venuto meno, ha reso la situazione ancora più difficile, ma perché era già un po' difficile. Lo vedo anche sui ragazzi rispetto alla scuola. Chi mediamente lavorava o lavorava bene ha continuato a farlo, con tutti i compromessi. Certo che se noi adulti, da sciagurati, abbiamo detto ai ragazzi due mesi fa o tre mesi fa che la scuola era finita, che erano tutti promossi, questa è stata una mossa sciagurata, perché non possiamo non pensare che questo abbia un peso. Per cui certo, anche il ragazzo più motivato, che è quello che dice studio, perché ci credo davvero, perché divento grande, perché conosco la realtà, anche un ragazzo così motivato, insomma, con questa storia che alla fine siamo promossi tutti, l'anno è finito, un pochino può essersi seduto. Ma chi lavorava ha mediamente continuato a farlo, ha usato bene delle video lezioni, ha usato bene delle occasioni, si è ingegnato. E lo stesso nei rapporti. Chi aveva dei rapporti tendenzialmente soddisfacenti con gli altri, se è un po' più grande, si è inventato di aprire i Zoom e poi le video chat, e anche più piccoli, però sono riusciti a tenere. La questione era che chi lavorava poco ha smesso di farlo, spesso. Ora sto un po' generalizzando, ma vi dico un po' dal mio osservatorio che cosa ho visto. Chi lavorava poco e male ha continuato forse a del tutto smesso. Chi tendeva ad essere un pochino isolato, che in fin dei conti stare con gli altri era un po' una fatica, ha colto l'occasione per chiudersi e per isolarsi. Per cui io non mi sono stupito del fatto che quando c'è stata la riapertura non ci siamo immediatamente tutti e soprattutto più giovani e riversati nelle strade come fosse il Carnevale di Rio. Anzi, da più parti ho riscoperto, ho risentito la preoccupazione, a volte anche la lamentela soprattutto dei genitori o degli adulti che dicono fa fatica a uscire, fa fatica a uscire e preferisce stare un po' dentro, ancora in casa. L'età declina in modo diverso, perché è diverso se parliamo di un bambino della primaria piuttosto che di un ragazzo delle medie o addirittura delle superiori, quindi con gradi di autonomia diversa. Ma il fatto che qualcuno, e forse più di uno, fa fatica a riprendere è un dato che non mi sorprende. Perché che cosa abbiamo sperimentato? Abbiamo sperimentato, soprattutto i ragazzi hanno sperimentato, che la realtà è complessa. Cioè la realtà è complessa, la realtà a volte è conflittuale, la realtà a volte è contraddittoria, la realtà chiede dei passi, la realtà chiede dei compromessi, chiede negoziazioni, chiede di starci. Molti ragazzi, anche qualcuno che ho incontrato oggi virtualmente, mi ha detto ma sai cosa te, ma io stavo bene prima, ma io ci stavo benissimo. Allora la scuola c'è, ma il bel, mi prendo il bello della scuola, non ci sono i voti, o se ci sono sì, tanto contano perché contano, ma un po' di compagnia me la fanno. Io sto in casa, gioco, gioco, gioco online, sto con quelli che mi piacciono, sto con i miei amici, sto con quelli che mi corrispondono, sto con quelli che hanno i miei stessi gusti. E chi me lo fa fare adesso di uscire? Chi me lo fa fare di, come ributtarmi in un agone? Ecco, io credo che un po' una sorta di paradossale comfort zone in cui qualche giovane si è trovato, anzi più di un giovane si è trovato, può rendere ragione di questa difficoltà alla ripartenza. Perché è vero che la realtà è più complessa. È vero che se torno in una classe vera, la classe vera ho degli elementi, che proprio i miei amici che, quando va bene, ci sono proprio i miei amici con cui sto bene, poi ci sono un po' di neutri e un gruppetto che se non ci fossero stare meglio, che preferirei non vedere. Ma la realtà, la città degli uomini è fatta così, nella città degli uomini non ho tutti quelli che mi piacciono, non ho tutti quelli che mi corrispondono, non ho tutti quelli che sono uguali a me. Ho anche quelli neutri, posso avere anche i nemici, posso fare anche l'esperienza di uno che mi è nemico, o semplicemente antipatico. Allora, stare nella città degli uomini vuol dire affrontare anche queste questioni, vuol dire trovare il modo, trovare il modo per abitare questa città in un modo in cui io posso star bene e possibilmente assieme a me possano stare bene anche gli altri. Quindi, certo che c'è stata questa difficoltà, questa difficoltà perché abbiamo avuto una stensione prolungata dalla realtà, dalla realtà così come l'abbiamo conosciuta. Teniamo presente che non è stata una vacanza, perché vacanza è scuola con tutto il resto, anzi, vacanza è niente scuola ma tutto il resto. E qua invece di colpo è sparito tutto, è sparita la scuola, ma è sparito il calcio, la ginnastica, le lezioni di chitarra, di batteria, l'oratorio, lo stare con gli amici, il catechismo, il vedere i nonni, il vedere gli zii, il vedere gli amici di famiglia. Cioè, è di colpo sparito tutto. Quindi è una situazione del tutto artificiale, del tutto artificiosa, che ha avuto e che ha le sue conseguenze. È sparito tutto, sono spariti gli appuntamenti, sono spariti gli appuntamenti che scandiscono la giornata. Ora, so che la vostra scuola è stata grande o grandiosa, potremmo dire, nel tenere questi appuntamenti, che è stato importantissimo, ma molte altre scuole hanno faticato. E poi è un appuntamento strano, perché per quanto abbiamo fatto questa didattica a distanza, non so se siamo riusciti a fare scuola a distanza. Da quello che ho capito della vostra scuola, credo che voi abbiate fatto scuola a distanza. Ma questo fa parte di una delle acquisizioni, no? Mi viene da dire che cosa abbiamo imparato. Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che la scuola è un luogo di rapporto. Questo l'abbiamo imparato. Abbiamo imparato che poi è un luogo di rapporto complesso. Non dico difficile, complesso. Complesso articolato, dove questo rapporto può anche scontrarsi con la diversità, con la fatica, con l'obiezione, con l'ostacolo che a volte può costituire l'altro per me. Ma questa è la vita, questa è la realtà. Quindi abbiamo sperimentato direttamente che la scuola è un luogo di rapporto. E garantire scuola non era garantire i compiti. Non era... cioè fare scuola non è mandare delle video lezioni registrate. Fare scuola non è mandare compiti che poi riteriamo virtualmente e che correggeremo. Fare scuola è esserci. Fare scuola è convocare. Durante questo lockdown, cosa fa uno psicanalista scrittore? Ho finito due libri. Uno bellissimo, un romanzo, e uno un po' più noioso per i genitori sulla scuola. E mi sono trovato a scrivere un capitolo sull'apprendimento. Ed è stato utile per me questo lockdown perché sono riuscito a formulare questo capitolo in cui mi sono chiarito l'idea che si impara solo per vocazione. Nessuno impara per comando. Cioè non esiste un apprendimento comandato. Si impara per vocazione. Che cosa vuol dire che si impara per vocazione? Si impara se qualcuno mi voca, mi chiama, mi convoca. Vocazione è sempre convocazione. L'appello del mattino è una vocazione, è una convocazione. È qualcuno che mi chiama perché mi costringe a rispondermi. Ci sono. Eccomi. Presente. Io. Sì. Quella formula lì che magari anche quel sì strappato detto in mezzo ai denti è un rispondermi. È un rispondere perché se c'è appuntamento, se c'è chiamata, c'è la mia risposta. Non è scontato. Io posso anche non rispondere. Ma perché io posso rispondere deve esserci prima una chiamata. Quindi c'è una chiamata, una convocazione, una risposta, un metterci del mio. Ecco, molti appuntamenti che scandisco la giornata, che sono queste chiamate, queste vocazioni, sono venute a meno. Grazie a Dio la scuola ha tenuto. Quindi che cosa abbiamo portato a casa? Abbiamo portato a casa la scoperta o la riscoperta del cuore della scuola. Il cuore della scuola è il rapporto. È un rapporto tramite il quale si apprende. Non è un apprendimento puro, astratto, distaccato dall'esserci e dall'essere implicati in un'altro. Poi noi famiglie, che abbiamo, credo che abbiamo avuto almeno due acquisizioni, abbiamo scoperto che la famiglia non è un clan, la famiglia non basta se stessa, la famiglia non è un rifugio, la famiglia non è il luogo dove ci proteggiamo dai mali del mondo, neanche fosse un virus cattivo. La famiglia non basta se stessa perché c'è bisogno di un fuori, perché c'è bisogno di altro, c'è bisogno di altri altri. Abbiamo scoperto quanto i nostri figli hanno bisogno di altri. Quali sono gli altri di cui hanno bisogno i nostri figli? Sono innanzitutto i pari, i compagni, un po' più grandi, un po' più piccoli, della stessa età, ma comunque i giovani, i ragazzi, i bambini come loro, hanno davvero bisogno di buttarsi dentro la realtà, mettere le mani nella pasta del reale assieme ai loro compagni. Ma hanno bisogno di altri adulti. Allora, il fatto che noi non bastiamo ai nostri figli vuol dire che non possiamo essere adulti che bastiamo, non siamo gli adulti sufficienti per i nostri figli. I nostri figli hanno bisogno di altri adulti. Hanno bisogno di educatori, hanno bisogno di insegnanti, di professori, di maestre, di catechisti, di allenatori, di amici di famiglia, di tutti gli adulti che possono aiutarli a crescere. Ma anche noi abbiamo scoperto che abbiamo bisogno, che anche noi abbiamo bisogno di altri. Anche noi adulti abbiamo bisogno di altri adulti. Perché è stato bello trovarci insieme, è stato bello quando è stato bello questa condivisione stretta della casa, della vita. Io ho detto che a volte è andato anche meglio che abbiamo ritrovato dei momenti per stare insieme, ma ci siamo accorti che ci mancavano i nostri, io spero che ci siamo accorti che ci mancavano i nostri rapporti. Perché vuol dire che questi rapporti innanzitutto c'erano. Ci sono mancati i rapporti sul lavoro, ci sono mancati i rapporti di amicizia, con gli amici più o meno cariche, nuovi, nuove di un tempo. Possono esserci mancati i rapporti con il giro della famiglia allargata, quindi con la parentela. Ci sono mancati i rapporti con i contatti, che magari non sono i rapporti particolarmente significativi, ma il panettiere, il cassiere del super dove vado sempre, il mio tabaccaio, il portiere. Allora, io credo che sia interessante l'aver fatto queste scoperte. Ma che cosa ci permetterà di andare avanti? Che cosa ci permetterà di fare tesoro? Perché sono un tesoro quello che abbiamo scoperto, no? Siamo riusciti ad andare al proprio della scuola a capire esattamente o meglio che cos'è la famiglia. Abbiamo capito che la famiglia è il trampolino di lancio verso l'universo, non è luogo di chiusura. La famiglia è quello che mi butta nell'universo dei rapporti con tutti gli altri possibili, con un'apertura alla realtà straordinaria che fa sì che io abbia voglia di conoscere anche quello che non conosco ancora, che non mi spaventa chi è diverso da me, che mi piace confrontarmi anche con un'opinione che apparentemente è contrastante perché mi servirà per rafforzare la mia convinzione. Oppure magari per scoprire che la mia convinzione è debole e che allora magari qualcun altro aveva ragione quando io pensavo che avesse torto. Ecco, tutto questo accade nel reale. Ma perché duri? Pensate agli atti di solidarietà che abbiamo scoperto. Abbiamo trovato atti di solidarietà belli, ma che cos'è che li reggeva? Li reggeva un'emozione. Io in questi giorni mi sono chiesto se possiamo chiamare solidarietà quella che si stabilisce fra gli uomini perché c'è un pericolo. Quel legame, quello stringersi che è dettato da un pericolo comune. È davvero solidarietà questa? È davvero vicinanza umana? Io ho qualche dubbio, ho qualche dubbio. Vi racconto questa esperienza perché per me è stata davvero illuminante. Lo scorso Natale ho fatto una gita con la famiglia, facciamo sempre prima di Natale, all'estero. Eravamo su questo economicissimo Ryanair che doveva atterrare a Valencia. Per la prima volta ho sperimentato tre aborti di atterraggio. Vuol dire che per tre volte il pilota ha provato ad atterrare, poi il vento era così forte che ritornava in quota. La quarta volta, per fortuna, ha pensato che piuttosto che farci schiantare ci ha portato ad Alicante, quindi a 500 km di distanza. Ora, quel vicino di sedile che mi aveva un po' infastidito. Si era tolto le scarpe, gli puzzavano i piedi, mangiava che sembrava un bifolco, parlava troppo forte col suo vicino. Magari anch'io l'ho infastidito, non posso escluderlo. Beh, quando abbiamo temuto di morire, tra un madre de Dios di qua e un madre de Dios di là, mi ha fatto vedere le foto della nipote, mi ha detto che tornava a casa di sua figlia. Cioè ci siamo sentiti, ma tutti, no? Cioè quando siamo arrivati ad Alicante ci siamo aiutati a scaricare i bagagli dai carrelli, uno non li è arrivato, l'abbiamo confortato. Poi cosa è successo? Che di noi 400 persone che dovevamo tornare a Valencia è arrivato solo un pullman da 54. E lì ci siamo ammazzati per salire su quel pullman. Ci siamo letteralmente fatti fuori. Tanto è vero che sono rimasti giù donne incinta, bambini, quelli più lenti, quelli con i passeggini che non riuscivano, no? Allora, quell'attimo di vicinanza umana che abbiamo sentito sull'aereo ha tenuto 45 minuti e di fronte alla possibilità di perdere io qualche cosa rispetto all'altro è miseramente crollato. Allora, sarà così anche la solidarietà che abbiamo sperimentato in questo periodo. Molto emotiva, abbiamo cantato, chi l'ha fatto, sui balconi, abbiamo cantato azzurro, alle 18 c'era qualche cosa che ci univa. Allora, questo era emozione o tutt'al più il compattarci per un pericolo comune, contro un nemico comune. Ecco, il passo in più che dovremmo fare è trovare una ragione per questo. Il passo in più che dovremmo fare è, se abbiamo sperimentato che per un attimo ci è sembrato un modo diverso di guardare il vicino, quel vicino di casa, attenzione, con cui ci siamo sentiti un po' solidari, ha già riniziato a darmi fastidio perché il suo figlio gioca con la palla, sente la musica alta, usa lo sciacquone alle tre di notte, tutte cose che sento. Per cui sì, siamo stati cose, ma di fatto torno un pochino a darmi fastidio. Allora, dovremmo fare tesore e memoria di un'esperienza, di un attimo che è stato più bello. Ma è stato più bello guardarlo in questo modo. È stato più bello non guardarci come degli ostacoli. È stato più bello pensare che l'altro mi poteva tornare d'aiuto e io d'aiuto per lui se ne avesse avuto bisogno. Ma perché questo tenga abbiamo bisogno di passare da un giudizio. Dobbiamo passare da uno stato puramente emotivo a un giudizio, al giudizio critico. Ma questo è il problema dei nostri tempi, che noi viviamo di emozioni. Viviamo di emozioni. Ci scandalizziamo, ci infiammiamo, ci commuoviamo, ci indigniamo. Pensate alla reattività che noi adulti abbiamo in rete. Buona parte del potere delle fake news è perché non pensiamo, non esercitiamo uno spirito critico, non chiediamo se quel testimone lì è affidabile. Ci scaldiamo e pam, rituitiamo, ricondividiamo, commentiamo, ci scandalizziamo. Ecco, perché le acquisizioni che abbiamo avuto tengano c'è bisogno di un lavoro. C'è bisogno di un lavoro. Un lavoro del pensiero, del giudizio, che può trasformare quella che è stata un impulso, un'emozione, in qualche cosa di più stabile. Per quanto riguarda la solidarietà, sono persuaso che non si è solidali perché c'è un negativo, perché c'è una minaccia. Si può essere solidali solo se c'è un positivo che ci unisce. Cioè solo se io trovo una ragione positiva per cui è più conveniente, è più bello, è più interessante, è più vantaggioso per me e per il mondo che l'altro venga trattato bene e che l'altro non venga massacrato e che l'altro venga tollerato quando è fastidioso. Ma questo sarà un lavoro. Per questo è stato un inganno, per questo è stato un inganno l'hashtag andrà tutto bene. È un inganno, è un inganno andrà tutto bene. È stato un inganno e se ce lo diciamo adesso ci stiamo ancora ingannando, ci stiamo illudendo. Io preferisco la versione, se proprio devo scegliere, preferisco la versione più cinica. Ora, chi è agé come me sa che esisteva un'attestata satirica, può darsi anche lontana da, almeno da alcuni di noi, da alcuni che siamo collegati, che io però ho sempre apprezzato che era Cuore. Ho trovato questa prima pagina di Cuore del settembre 92 in piena crisi economica e il titolone era, saremo tutti più poveri e stronzi lo stesso. Allora, l'ho trovato interessante, l'ho trovato interessante perché almeno non era inquinata da questo ottimismo sciocco dell'andrà tutto bene. Fa un errore però, è inquinata da un cinismo. Allora, io credo che dovremmo correggere, andrà tutto bene, manca una particella. Andrà tutto bene se c'è sempre una condizione per cui le cose, senza garanzia, ma possano avviarsi per andare bene. C'è sempre una condizione, non c'è nulla di automatico. Quindi, mi viene da dire, andrà tutto bene se aver scoperto qual è il cuore della scuola ci aiuterà a riprendere la scuola o a continuare la scuola sempre più certi che il fondamento della scuola è il rapporto, il rapporto docente-discente, che quello è il cuore e che tutto accade via rapporto e via vocazione e mai via comando. Andrà tutto bene se ci ricorderemo che la scuola non è il profitto. La scuola, che noi riduciamo la scuola ai compiti, ai voti, al profitto, ma la scuola è molto di più. E allora, chissà se quando chiederemo ai nostri figli come è andata oggi, non intenderemo come facciamo sempre che voto hai preso. Perché questa è una riduzione. Come è andata oggi e che voto hai preso? Caspita, ma come è andata oggi e come è andata oggi, come è andata con i tuoi compagni, con le tue compagne, con i tuoi prof, con i bidelli, con le persone che hai incontrato, con le materie, col tuo cimentarti nel lavoro che sei riuscito a fare e non sei riuscito a fare, ti sei preoccupato che non imparavi, non ti interessa niente, ti sei dispiaciuto del brutto voto. Cioè, pensate che grandezza che è una giornata a scuola e come noi la riduciamo. Andrà tutto bene se faremo memoria del fatto che la casa non è un bunker, che il nostro compito di adulti è introdurre alla realtà, introdurre all'universo e all'universo dei rapporti. Quindi che il desiderio di noi genitori non è che i figli siano bravi con noi, che non ci rispondano, che siano bravi, che facciano le cose che diciamo, che siano obbedienti, ma sì, anche questo, ma che se la cavino nel mondo, che sappiano tessere rapporti significativi, che abbiano un pensiero critico che gli permetta di giudicare, quindi di capire chi è amico, chi è nemico, di saper discriminare la proposta che viene loro fatta, per cui che sappiano riconoscere e quando incontrano qualcosa di buono lo sappiano riconoscere per sé e seguirlo, quando incontrano qualcosa di storto che lo sappiano riconoscere e possano dire ma sai che ti dico, questo, guarda, tentalo per te che io non lo voglio. Allora, che tesoro prezioso sarà aver scoperto che il nostro compito è solo introdurli, introdurli alla realtà, piuttosto che proteggerli da questa realtà. Però per questo, e qua chiudo, anche perché poi potrebbe venire fuori nelle domande, per introdurli nella realtà non dobbiamo averne paura noi. Mi viene da dire, per introdurli nella realtà dovremmo esserci introdotti noi. E poi dovremmo non avere paura noi, dovremmo non essere noi spaventati, dovremmo essere non noi titubanti, dovremmo essere noi che non vediamo nemici dappertutto, ma che vediamo potenziali soci, potenziali compagni, potenziali partner per la costruzione di quella casa comune che è il mondo, per la costruzione di quel bene comune che non è un ideale astratto, ma è l'opera che ciascuno di noi può fare se si mette insieme a lavorare con quelli che vogliono lavorare con lui. Ecco, allora io credo che da questa situazione che è stata difficile, drammatica, per qualcuno tragica, perché poi non dimentichiamo che, non posso neanche escludere di qualcuno che è collegato con noi, che abbia avuto delle esperienze particolarmente dolorose, delle perdite, dei lutti, caspita, no? È stata un'esperienza fortissima. Ma qualunque esperienza fortissima o meno forte che noi possiamo aver fatto, come sarebbe bello che questo non fosse accaduto in vano, ma ci fosse d'aiuto per adesso che si può ripartire con uno slancio nuovo, uno slancio più deciso, con una grinta sulla realtà che vuole altro che proteggermi. Voglio mettere le mani in pasta, voglio aderire, voglio aderire a questa realtà, voglio rispondere a questa realtà giocandomi la mia responsabilità, la mia responsabilità di soggetto, di cittadino, di padre, di insegnante, di professionista, di quello che sono. Allora, io credo che potrei andare avanti, anzi sono sicuro che potrei parlare da solo fino a domattina, ma ho usato 27 minuti, credo, o 17, non lo so. Va benissimo, Luisa. Io mi fermerai qua. Andiamo sulle domande che davvero ci stanno a cuore. Esatto. Per adesso non ne sono arrivate, mentre arrivano te ne faccio una io, perché hai toccato un punto che mi sta molto a cuore, quella della comfort zone, che la vita non è stare nella bolla in cui ci si rinchiude e va tutto bene. Quello che dico io però è per uscire da questa comfort zone è necessario far fatica. Allora, ci aiuti in questo? È necessario far fatica io come adulto? È necessario che io sia disposto che i miei figli facciano fatica? Come dire, di tutti i tipi, una fatica non solo nel compiere il proprio dovere, ma anche la fatica che è quella fatica che consiste in affrontare la realtà e soprattutto se stessi, perché la comfort zone è come una difesa dalla propria sconfitta. Allora, ci aiuti nel... come dire, nel... nell'affronto di questa fatica? Cioè, cos'è che può sostenere l'affronto di questa fatica? Certo. Caspita, domandona. Allora, solo un malato vuole fare fatica. Si chiama masochismo. Cioè, con i ragazzi dobbiamo sempre stare attenti... So che non è quello che fai tu, però la prendo in questo modo. Con i ragazzi dobbiamo stare attenti a non fare apologia della fatica. Perché? Perché è giusto non voler far fatica. l'occhio non deve essere puntato sulla fatica, l'occhio deve essere puntato sulla meta. È la meta che deve essere interessante. Cioè, se noi coi ragazzi insistiamo sulla fatica, fine a se stessa, è perdente. Ma sarebbe perdente anche per noi, no? Ma... L'occhio è sulla meta. E i ragazzi lo sanno benissimo. Perché? Scusa Luigi, ti interrompo un attimo. Scusa. Perché è appena arrivata la domanda che dice esattamente questo, no? Riprende questo e aggiunge una cosa che io non ho aggiunto. Quindi ti chiederei di tenerla presente. Cioè, la domanda è ma come convince i ragazzi di uscire dalla comfort zone? Bene, bene. Chi me lo fa fare? No? Chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare è interessantissimo. Scusami. È interessantissimo. No, ma grazie. È interessantissimo. Allora, i ragazzi lo sanno. È possibile che svegliarmi alle sette del mattino sia una sofferenza pazzesco, una fatica incredibile per andare a scuola. Però quella domenica che punterò la sveglia alle 5 per andare a sciare mi alzo e mi tiro su. Allora, non è che non è faticoso alzarsi alle 5 per andare a sciare, ma il mio occhio, la mia mente, il mio cuore, il mio pensiero è teso ad andare a sciare. È teso alla prospettiva di avere una giornata interessante, di una giornata bella, di muovere il mio corpo, di stare con gli amici con cui sto bene, di far vedere che sono bravo o di imparare una cosa che non so ancora fare o di migliorare e diventare ancora più bravo. Allora, certo che c'è la fatica di alzarmi alle 5 del mattino, ma come si dice, lo faccio con la mano sinistra, lo faccio con la mano sinistra. Allora, noi non possiamo partire, soprattutto con i ragazzi, sulla fatica, peraltro a volte facendo neapologia. A volte mascherandola con un pensiero melancolico e depresso. Devi capire presto che la vita è dura. Devi, no, guarda, così impari che la vita è faticosa. No, caspita, ma chi fa venire voglia ad alzarsi uno che mi dice così impari presto che la vita è dura. No, la vita è dura, posto che sia dura, no, posto che sia dura, la scoprirà e la affronterà mentre scoprirà che è dura. Cioè, anche qua, c'è bisogno di uno che ti dica e ti documenti che la vita è bella, ma non alla Benigni, perché è quel sciagurato film che ha vinto l'Oscar. È un'offesa al pensiero del bambino, il film di Benigni. Questa costruzione surreale di un bambino ingannato con un padre idiota che gli dice che è un gioco dentro un campo di concentramento, ma è solo dentro una cattiva finzione che può funzionare una roba così. È un bambino protetto dalla realtà che non deve, non è quella vita è bella perché ci inganniamo, ma dobbiamo crederlo davvero che la vita è bella. Allora anche qua, torniamo a noi genitori, torniamo a noi genitori, torniamo a noi adulti. Lo crediamo o no che vale la pena impegnarsi nel reale? Lo crediamo o no che uscire, prendere, andare al lavoro sia un'esperienza che può costruire me, l'altro e il mondo? Questa è una domanda che è radicale per noi, perché poi noi chiediamo ai ragazzi quello che non facciamo noi, gli chiediamo di essere responsabili con la loro fatica, con il loro dovere e poi noi usciamo la mattina per andare al lavoro che è come se con la faccia che se ci dovessero fare una colonoscopia senza anestesia, cioè, ma è una contraddizione questa, no? Cioè, di fatti, io da tempo ho coniugato questo slogan, scusate, che è si educa quando non si educa, no? Cosa vuol dire che si educa quando non si educa? Che quando noi educhiamo, mettiamo modalità education on, iniziamo con i nostri pistolotti, noiosissimi, siano noiosi anche per noi, no? la scuola, lo studiare, il senso del dovere, ma si educa quando non si educa, cioè, che cosa è davvero educativo? Educativo come noi trattiamo il nostro lavoro, come noi adulti trattiamo i soldi, come noi adulti trattiamo gli amici, come trattiamo lo sposo, la sposa, come trattiamo il tempo libero, come trattiamo le vacanze, come trattiamo la politica, come trattiamo i nostri interessi, come trattiamo la nostra casa, come trattiamo il nostro corpo, no? Allora, l'amore è un trattamento, no? E i ragazzi non è che stanno a sentire tanto o troppo i nostri pistolotti, no? Ci guardano, ci ascoltano, quindi, l'accento non è su una fatica da fare con una posizione melanconica che ritiene che dalla vita bisogna fare, cioè, è già faticoso, va già bene se riusciamo a passarli indenni, no? Tanto non passeremo indenni. Ma la centratura, la centratura deve essere sulla meta, la centratura è su che cosa desideri raggiungere, su che cosa ritieni che risponda al desiderio che senti, che provi, rispetto alle ambizioni che ti sono venute, alle passioni che ti stanno nascendo. Allora, tanto più noi riusciremo a indicare una meta, come una meta soddisfacente, come possibile e già realizzata per noi, tanto più gli aiuteremo a fare quella fatica necessaria non un grammo di più, ma quella fatica necessaria, allora la fatica diventerà solo la condizione per arrivare dove desidero. Esattamente come se voglio andare, no? se voglio andare a trovare il mio amico e mi si è rotta la bici e non ho ancora la macchina, ci andrò a piedi. È una fatica, sì, è una fatica, ma è solo la condizione necessaria per arrivare a qualcosa che desidero, che mi sta a cuore. Quindi, perché si esca da una bolla, occorre che si veda che il mondo fuori dalla bolla è bello, occorre che quel mondo lì sia interessante, che sia affascinante, che sia già vissuto da qualcuno come tale, non solo che sia dichiarato, ma che sia vissuto così, no? Perché la tentazione è il libro che avevo fatto due anni fa sui modelli genitoriali che era Chioccia, Tigre, Elicottero, Spazzaneve, il genitore Spazzaneve è proprio quello che vuole proteggervi dalla fatica, no? L'immagine, l'hanno inventato gli americani, l'immagine è bella, no? Cioè, io vado avanti e ti spiano la strada, per cui il tuo piedino non inciamperà mai, non inciamperà più, no? Ma il genitore Spazzaneve non fa un favore al figlio, non fa un favore al figlio proprio perché parte da quest'idea che la realtà, dalla realtà bisogna proteggersi, che non deve esserci fatica, ma soprattutto che non deve esserci contraddizione. E mi sta a cuore anche dire questo, che non deve esserci dispiacere. Perché viviamo in un mondo in cui forse qualcuno ci ha ingannato, ma noi ci siamo fatti ingannare, nel pensare che nella vita esiste solo il piacere. Ma il dispiacere invece accade, no? Per quanto noi possiamo fare di tutto per allontanarlo o rimuoverlo, il dispiacere accade. Allora, il problema non è negarlo, il problema è trattarlo, cioè trattare il dispiacere. Cioè, cosa me ne faccio del dispiacere? visto che accade. Allora, che cosa guadagno? Che cosa riesco a guadagnare da un dispiacere? Allora, pensate che posizione diversa, piuttosto che l'idea del proteggere in ogni modo perché il dispiacere non accada, aiutare a non avere scandalo del dispiacere e, ad esempio, dare testimonianza e magari aiuto su come si riparte da un dispiacere. Perché si può ripartire da un dispiacere con un di più. Con un di più. Ora, anche qua, non facciamo l'apologia del dispiacere. Tutto quello che possiamo evitare lo evitiamo, ma accade. E il dispiacere può essere anche la contraddizione del mio compagno che l'ho invitato alla festa e non viene. O che non mi invita alla sua festa. Questo è un dispiacere. Allora, anche qua, poi noi come genitori ci arrabbiamo, chiamiamo l'altra mamma perché non l'ha invitato e cosa. è successo questo. Allora, chiediti come mai è accaduto che non t'ha invitato? Come mai è accaduto che tu non l'hai invitato? Come mai è accaduto che non è venuto? Che conclusioni possiamo trarre? Come si può ripartire da questo? Ci riprovi? Molli? Piuttosto che angosciarti con uno che non vuole stare con te, cerchi qualcun altro che ti può essere amico? Allora, fa parte proprio di quella ripartire che non è solo dopo il lockdown. Perché si riparte sempre, si riparte ogni giorno, si riparte dopo la contraddizione, si riparte dopo il dispiacere. ma non dobbiamo averne paura. Ok, grazie. Adesso c'è Luca Crava che deve fare una domanda. e adesso, vai, ah, non sei Luca. Vai. Sono Elena. Buonasera. E grazie mille, è stato bellissimo, ho detto delle cose bellissime. io volevo chiederle questo. Ho effettivamente sperimentato nel corso della quarantena questa cosa che i nostri figli sono un po' una cartina torna sole delle nostre emozioni, di come noi ci poniamo rispetto alla realtà. quindi se la viviamo con tranquillità loro sono sereni se siamo impauriti anche se magari cerchiamo di tenerglielo nascosto però comunque loro lo percepiscono. Lei giustamente dice che comunque bisogna riprendere cioè bisogna uscire dalla comfort zone ritornare nella realtà accettando la fatica quindi sono convinta che non bisogna togliere la fatica ai propri figli però questa realtà che i nostri figli si proveranno a vivere sarà una realtà anomala fatta di tante limitazioni nei rapporti umani per esempio ci sarà il distanziamento e quant'altro. Come possiamo noi genitori aiutare i nostri figli ad affrontare questa nuova realtà perché comunque anche a noi crea disagio. Quando io sono uscita per la prima volta dopo mesi ho rivisto una persona a cui voglio molto bene non poterla abbracciare un amico che non vedevo un'amica che non vedevo da tempo non poterla abbracciare caspita è stato faticoso ma io sono l'adulto i figli sono più istintivi cioè per loro come sarà come potremo aiutarli è tutto grazie allora raccolgo la sua domanda c'è un eccesso di preoccupazione c'è un eccesso di preoccupazione in noi che va da questa più moderata fino a scenari apocalittici nel senso come faranno ad affrontare sono domande che mi arrivano come farà mio figlio affrontare bene le medie avendo finito così le elementari come farà ad affrontare bene il liceo finendo in questo modo disastroso le medie come farà affrontare l'università senza la maturità a volte io ascolto queste domande e dico ma noi non ma non pensiamo cioè questo qua che fa la maturità ha fatto 5 ha fatto 13 anni di scuola e noi pensiamo che il problema è che non ha fatto ha fatto 3 mesi di lockdown e questo lo segnerà in chissà in che modo ma no ha parevato che questi ragazzi saranno degli eroi ogni volta che un selezionatore vedrà che ha fatto la maturità nel 2020 dirà ma voi siete quelli lui sì sono quelli che ma diventa una narrazione epica questa ma questa preoccupazione che avrà tutta questa storia del trauma che c'è io sinceramente non riesco a condividerla soprattutto non riesco a condividerla perché noi continuiamo a pensare ai bambini e ai giovani come fragili cioè ma come faranno ma guarda se la caveranno benissimo ma se la caveranno anche meglio di noi anzi forse dovremmo essere noi a guardare come se la cavano loro in molte occasioni poi per cui io partirei da una incondizionata fiducia nelle loro risorse incondizionata fiducia nelle risorse ossia nella loro capacità di cavarsela di pensare di non essere soli di essere assieme ad altri coetanei che a seconda dell'età affronteranno tutti la stessa questione perché io non posso toccare te ma tu non puoi toccare me no cioè io non faccio questo esame ma non lo fai neanche tu quindi partirei da una incondizionata fiducia nel loro cavarsela nel loro cavarsela personalmente e insieme a quelli che condivideranno la stessa esperienza della stessa età poi se con questa incondizionata fiducia mi accorgo che la la ripresa diventa davvero faticosa allora quello è il momento anzi neanche quello di preoccuparci ma è il momento di occuparci no allora noi dovremmo lasciare cadere le nostre preoccupazioni che il fatto di essere pre spesso sono del tutto ingiustificate anzi a volte generano la preoccupazione genera no condizioni perché poi li spaventiamo ma come farai ma qui no cioè profezie anche autografici quindi noi non dobbiamo mai preoccuparci semmai dobbiamo occuparci allora se mi accorgo che il mio bambino il mio bambino il mio ragazzo la mia ragazza caspita stenta fatica lo invitano e non esce ha la possibilità di fare un campus anche in una forma un po' strana ma ma ti dice ma no non ha preferisco non farlo allora in quel momento dovremo occuparci del capire che cosa sta vivendo quale pensiero è sotteso quale pensiero è sotteso a questo comportamento perché noi spesso vogliamo correggere i comportamenti ma i comportamenti sono sono generati da pensieri che possono prendere la forma di paure di desideri di angosce di timori allora sarà il momento di parlarne di capire insieme di dargli una mano di aiutarlo magari a seconda dell'età di ingegnerizzare un po' noi quindi magari invitare coinvolgere magari aprire di più la casa se non riesce uscire per un po' teniamo presente che dobbiamo avere anche un concetto di gradualità perché non è che noi li chiudiamo in casa da tre mesi e gli diciamo fuori c'è la morte se incontri i nonni e li abbracci li fai morire andiamo a fare la spesa disinfettiamo le scatole prima di metterle via togliamo le scarpe prima di entrare ci mettiamo nudi e poi gli diciamo adesso esci allora c'è una gradualità anche in questo che dobbiamo ammettere per cui nessuno scandalo che uno all'inizio esca fuori un po' sospettoso si guarda intorno non è patologico questo perché poi noi vediamo patologie dappertutto appunto ci preoccupiamo e la creiamo la patologia a volte le nostre preoccupazioni sono patogene diamogli tempo stiamo un passo indietro osserviamo un po' di titubanza un po' di timore magari ce l'ha anche qualcuno di grande magari molti grandi ce l'hanno e non lo diciamo per cui diamo un po' di gradualità diamo tempo vediamo come come la ripresa perché a volte magari sono titubante però poi mi chiama il mio migliore amico e allora magari il naso fuori con il mio migliore amico ce lo metto e poi se ce lo metto due o tre volte magari scopro che non succede niente ma deve essere una mia scoperta anche qua è il soggetto il soggetto che si muove nella realtà quindi aiutiamoli accompagnamoli in questi passi senza scandalizzarci o patologizzare dei timori certo che se poi vediamo che questi timori persistono allora dovremmo magari occuparci nel modo un po' più preciso andare magari ad esempio ad ascoltarli a vedere se ci dicono qualche cosa grazie allora adesso ci sono due domande una la leggo io e una la fa Tommaso che però non so com'è il il nome il nome su Zoom nel frattempo lo scriva il moderatore di farsi aprire il microfono la domanda che leggo io è questa buonasera preferisco per diverse ragioni rimanere nell'anonimato su mio figlio delle superiori già di suo timido e chiuso mi ritrovo in pieno quanto ha detto ora il dottor Ballerini cioè ad esempio gli sta bene sentirsi digitalmente solo con i preferiti e stop l'altra sera sollecitandoli sollecitandolo chiedendoli se non avesse piacere nel rivedersi con loro si è subito risentito e mi ha detto vuoi decidere te per me quando vedermi con loro e quando chiederei un aiuto anche se immagino non ci sia una ricetta su come potrei stare di fronte a lui nel misero tentativo seppur per amore di aiutarlo a tornare ad uscire e a vedersi almeno con gli amici grazie poi c'è Tommaso che la collega e poi la risposta vediamo questa domanda vai Tommaso eccolo allora io ho una questione che è legata a questa che nasce da un dialogo che ho avuto con qualche amico che fa l'università e che era più o meno su questo tenore cioè qual è davvero il valore di fare qualcosa in presenza anziché attraverso lo schermo cioè pensa ad esempio alla cosa di questa sera stiamo facendo il nostro incontro funziona tutto bene ci ascoltiamo ti domandiamo tu rispondi c'è lo schermo ma quale sarebbe stato il valore di farlo in più diciamo vedendoci magari nel teatro della nostra scuola e nel dialogo con questi amici universitari la cosa veniva fuori proprio perché loro dicono adesso beh riprendere a settembre le lezioni ma in fondo il semestre che abbiamo fatto sai all'università ci sono molti meno problemi per certi versi diciamo che sono nella scuola e dice ma in fondo forse potremmo fare un altro semestre così perché ci risparmierebbe il treno per andare all'università se devo venire a Milano e pagarmi l'affitto non lo devo pagare e in fondo il tipo di esperienza che vivo tra fare la cosa online e farla che siamo lì tutti insieme ma più o meno alla fine è quasi uguale cioè più o meno la stessa roba no? dare ragione di che cos'è invece di bello e di diverso non superficialmente ma dell'essere insieme mi sembra un aiuto che possiamo darci possiamo dare anche ai ragazzi di riscoprire il valore di che cos'è l'esperienza in persona ecco sì trovo singolare che gli universitari non direbbero questo del sesso sì sì tendo a dire faccio fatica a pensare a qualcuno che no dica ma sì ma sai cosa ti dico così sarebbe meglio perché la dimensione no? ma l'ho messa sul sesso ma ma solo perché ha a che fare col corpo ma alla domanda di Tommaso o se fossimo stati in presenza ci sarebbe stato che io probabilmente avrei cenato con Tommaso Nadia e Marcello che sarebbe stata un'esperienza in più e diversa rispetto al puro collegamento che abbiamo fatto no? cioè la dematerializzazione dell'esperienza ha delle conseguenze ha delle conseguenze a me ha sempre sorpreso quando il mio maestro Giacomo Contri molti anni fa mi parlava della della risurrezione no? e mi diceva ma non hai pensato che no? che a Gesù era piaciuto così tanto avere un corpo che ha pensato di portarselo via che ha pensato di tenerselo no? cioè la risurrezione è del corpo cioè noi siamo noi siamo corpo noi siamo corpo e l'esperienza la facciamo col corpo l'esperienza la facciamo con tutti i sensi l'esperienza la facciamo con i corpi che si incontrano quindi io credo che su questo noi non dobbiamo mai cedere anche come convinzione personale poi che l'esperienza che abbiamo fatto cambierà alcune modalità sì questo cambierà cambierà ad esempio io stamattina ho fatto un'ora di incontro con una classe a Porto Gruaro e un'ora di incontro con una classe a Poppi in provincia d'Arezzo ora è straordinario che io possa fare possa incontrare i ragazzi di Porto Gruaro e di Poppi nella stessa mattinata non è esattamente come se li avessi incontrati davvero e mi mette un po' tristezza pensare che un universitario pensi davvero che si possa fare l'università a distanza perché l'università poi è nata come luogo cioè l'università è nata come luogo di scambio di saperi e di crescita dei saperi quindi il di più non dovremmo neanche spiegarlo che qual è il di più dell'andare qual è il di più dell'andare in università vuol dire è l'alternativa tra vivere l'università come un esamificio o un corsificio e viverlo come un luogo di esperienza ed è infinitamente più bello che sia un luogo di esperienza e questo fa parte di quelle non c'è bisogno di dimostrare che sia medio piuttosto la domanda che mi viene a cui non ho risposto devo pensarci anch'io è se a qualcuno viene la tentazione allora abbiamo scoperto che a qualcuno può venire la tentazione ma forse anche a noi di dire ma sai che ti dico che così va bene lo stesso ecco riconosciamola come una tentazione no come una tentazione del pensiero rispetto alla quale esercitare il giudizio dicendo no ma come rispetto a tutte le tentazioni no rispetto a tentazioni se uno ce l'ha ce l'ha poi si dice ma ci vado dietro o non ci vado dietro è ragionevole o non è ragionevole fa bene o fa male è sensato o non è sensato allora no dobbiamo essere certi che che gli uomini gli uomini che c'è un valore nel continuare a incontrarsi di persona e al padre del figlio di prima figlio che mi piace già tantissimo che gli ha detto stai un po' al tuo posto stai un po' al tuo posto cioè no adesso non venirmi a dire devo uscire non devo uscire allora questo figlio probabilmente è stato indispettito dal fatto di essere stato letto allora i ragazzi detestano essere letti soprattutto dai genitori tipo ah ho capito tu non esci perché non hai tanti amici cioè una roba così cioè è da ucciderlo questo padre non che se lo meriti ma la reazione del figlio è lo so che non ho amici preferirei che tu non te ne accorgessi e se te ne accorgessi che non me lo sottolineassi no allora occorre sempre molta discrezione tanto più quanto più diventano giovani uomini giovani donne occorre una discrezione quel passo indietro che che decide quando dire quando non dire il nostro intervento tanto più i nostri figli crescono deve essere come quello del pittore della bottega no che arriva lì da una pennellata e la sua pennellata fa diventare quel quadro bellissimo man mano crescono noi possiamo andare solo delle pennellate non possiamo andare mica lì con la spatola o no o con la pennellessa allora io sono un padre che riconosco che mio figlio che mio figlio si sta un po' ritirando si sta un po' ritirando allora la prima cosa che devo chiedermi è è vero o no cioè perché non è che il fatto che io penso così vuol dire che sia vero non è il fatto che una cosa che mi viene in mente debba essere necessariamente vera probabilmente di questo figlio io conosco il 30 33 34 per cento potrebbe esserci un 66 per cento un 64 per cento che non conosco bene per cui in realtà magari non è così isolato o ritirato come credo poi il vero punto di preoccupazione o di occupazione deve scattare quando il virtuale mangia il reale vuol dire quando il reale si impoverisce davvero quando il reale si impoverisce davvero quando mollo mollo sullo studio mollo sugli allenamenti mollo sulle mie passioni mollo sugli amici quando allora è davvero questo è il caso è questo il caso in cui c'è un impoverimento del reale e il virtuale mi sta mangiando quindi sto entrando in questa zona così comoda priva di conflitti in questa bolla dove io sto bene o è una modalità diversa di stare nel reale che magari non è del tutto consona con me ma allora il vero discriminante è questi amici ci sono o non ci sono esistono davvero perché poi è diverso se esistono e io ci sto in contatto in chat e magari li vendo poco o se non esistono affatto allora anche qua forse vale la pena che di volta in volta rispetto a una paura o anche una preoccupazione che ci può venire rispetto a nostre figlie che proviamo a capire meglio non entriamo a gamba tesa sottolineando solo il problema e dobbiamo anche accettare che man mano crescono può darsi che la soluzione non passi da noi quindi abbiamo bisogno di alleati allora per cosa dicevo che abbiamo bisogno di altri adulti abbiamo bisogno di altri adulti anche con i nostri figli allora gli insegnanti sono degli alleati preziosi allora se ho questo dubbio parlare con gli insegnanti ma cosa fa l'intervallo mangio il cracker da solo seduto sul calorifero ma no ma no ma lo vedo con gli altri allora se l'insegnante mi dice lo vedo con gli altri magari sono un pochino meno preoccupato rispetto a come dice guarda sta seduto si porta un libro da casa e sta seduto a leggere allora altri alleati sono gli insegnanti soprattutto se è una scuola che abbiamo scelto perché cerchiamo un'alleanza se abbiamo scelto una scuola è perché cerchiamo e crediamo nell'alleanza educativa allora l'alleanza educativa non è lamentarmi quando le cose quando la scuola non risponde come c'ho in testa io ma ma è chiedere anche aiuto su queste questioni che sono a volte persino più importanti altri alleati sono gli altri adulti che girano che girano per casa gli altri adulti di riferimento gli allenatori sono delle persone molto importanti allora provare ad aumentare la rete e capire meglio il primo consiglio è è davvero così tendente all'isolamento o è la mia impressione se lo è con discrezione con quello che si può fare perché a un'età in cui non si può ingegnerizzare troppo la sua realtà conviene trovare degli alleati adulti che ci aiutino a trovare quella chiave di accesso a lui che gli faccia tornare voglia di compromettersi con la realtà bisogna trovare un punto di ripartenza ma noi dobbiamo essere certi che c'è sempre un punto di ripartenza è sempre possibile dobbiamo trovarlo a volte però è lontano da quello che abbiamo in testa noi a volte è lontano grazie adesso una domanda di Michele si riesce Michele eccomi sì sono Paola e non Michele va bene lo stesso accendi il video però sì aspetta un momento ok ok allora faccio forse un passo indietro rispetto a dove siamo arrivati fino ad ora però è come se il lockdown ha amplificato una qualche cosa che c'era già prima no? diceva allora che un figlio voglia stare tutto il tempo davanti ai videogiochi a parte le ore della scuola significa significa che io non gli ho mostrato ciò che per me invece è bello cioè che non gli ho fatto che non gli ho fatto vedere che c'è altro di bello età? terza media no ah che bella domanda che bella domanda anche perché io mi sembro sconfitta evidentemente ecco 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 la smetta di sentirsi sconfitta grazie i figli non sono dei pezzi di pongo i figli non li plasmiamo noi anzi sarebbe tremendo perché se noi pensiamo che i figli sono dei pezzi di pongo con una visione puramente deterministica quindi se io che cosa succederà? che se i figli vengono bene li esporremo come dei trofei guarda guarda mio figlio se vengono male secondo la nostra declinazione di male ce ne vergogniamo o la buttiamo sul fatto che abbiamo sbagliato tutto non siamo stati capaci allora è un errore pensare che il figlio sia il puro prodotto del nostro sforzo educativo è che il fatto che abbia delle difficoltà sia un segnale di errori nostri allora non possiamo escluderlo non possiamo escluderlo ma la buona notizia è che se le cose non vanno bene per un ragazzo è perché a un certo punto lui ha iniziato a metterci del suo nel non farle andare bene questa è una buona notizia perché se fosse puro determinismo una volta che noi abbiamo sbagliato con il nostro figlio l'abbiamo rovinato per sempre pezzo di ponga è venuto male si è seccato è tutto storto in realtà il fatto che se le cose non vanno bene è perché lui ci ha messo qualcosa di suo è una buona notizia perché vorrà dire che come ha messo qualcosa di suo per farle andare male potrebbe metterci qualcosa di suo per farle andare bene quando gli verrà voglia secondo un tempo che non è il nostro quindi resista la tentazione di di considerare un fallimento educativo eventuali difficoltà è una tentazione che non ci porta da nessuna parte anzi ci fa del male ci toglie persino lucidità e ci impedisce a volte di guardare con lucidità a quelle che possono a ciò che è accaduto a ciò che è accaduto e a ciò che si può fare perché l'altro errore è che in questo determinismo noi non consideriamo che il mondo è grandissimo e che i rapporti sono molteplici quindi possiamo escludere che lui abbia avuto una qualche umiliazione importante da un coetaneo no che cosa c'entra lei è un'età in cui caspita ho provato a fare una battuta e poi magari il mio miglior amico mi ha detto oh cazzo pensi che fa ridere e allora io ci sono rimasto male e poi allora mi sono sentito un certo allora sono stato zitto la volta dopo poi ho provato a rifare un'altra ma stavolta mi è venuta davvero male come battuta e allora anche tutti gli altri hanno detto oh ma cazzo ma pianta non fai ridere allora poi io non so neanche più se mi conviene parlare forse mi do questo zitto e poi mi sono sentito umiliato dal mio miglior amico allora in tutto questo mamma e papà non c'entrano non c'entrano quindi anche questa idea che sia colpa nostra di quello che accade è un errore è giusto che noi consideriamo anche qua però se noi consideriamo l'ipotesi che abbiamo fatto degli errori non è per farci venire dei sensi di colpa è semmai per correggerci e semmai per capire allora questa cosa qui l'abbiamo fatta a volte si fanno errori anche in perfetta buona fede si fanno errori anche perché prima di farli pensiamo non pensiamo che siano degli errori pensiamo che siano delle cose che van bene poi dopo ci accorgiamo che è stato un errore ma anche in quel caso lì la questione che noi adulti facciamo fatica ad accedere è al pensiero della corregibilità siamo molto bravi a denigrarci o ad autoaccusarci siamo meno bravi ad entrare nell'idea della corregibilità quindi no caspita questa cosa qua l'ho sbagliata l'ho fatta male quindi non ho sbagliato tutto quindi su questo devo stare più attenta allora quando non farò più così non dirò più così e allora questo sarà un aiuto poi la chiesa parla della felix colpa che è addirittura quella che poi genera è capace persino se riconosciuta di generare del bene quindi io entrerei piuttosto in questa prospettiva e poi semmai varrà la pena fare il lavoro di che cosa sta succedendo perché perché c'è un po' questo ritiro perché la realtà è diventata un luogo difficile dove stare è ancora molto giovane e c'è tutto il tempo per mettere a posto questa cosa quindi non si affliga inutilmente grazie grazie bella questa cosa della correggibilità perché è quello che aspetta ognuno di noi adesso abbiamo messo insieme due domande la prima di Elena Conte e l'altra di Alessandro Danesi forza Elena vai no non ti sentiamo aspetta che ti toglie il muto adesso dovresti dovresti esserci parla un attimo che adesso sbanettiamo vai ci sei ok la mia domanda è abbastanza la faccio transciante cioè ragazzino di 13 anni cioè mi leggo in parte hai risposto in parte aggiungo una come dire una una cosa che mi rimane come anche mio anche mio figlio è uno che in questi mesi come dire vive nella bolla della playstation nonostante appunto ci sia come stata la la preoccupazione di dire che ti do dei tempi degli orari ma in questo momento che la scuola è finita dove Danone a Guastalla gli hanno anche dato un ordine per cui come dire l'hanno accompagnato in maniera grandioso direi la mia domanda adesso è questa ok adesso che la scuola è finita e se io che mio marito lavoriamo da casa e questo che cosa fa c'è c'è il campo estivo a Guastalla non so se quest'anno si farà però se io lui adesso è davanti da qui ad agosto due mesi come mette in gioco la sua libertà come dire l'obbligo nel senso tengo conto anche di quello che hai detto cioè gli dico guarda c'è una cosa il bello uscire stare con gli amici è sicuramente una cosa positiva per cui queste dinamiche ce li ho in mente ma di fronte a uno che dice ma no io non c'ho voglia poi magari la scuola neanche lo organizza per cui ma chi me lo fa fare no non ho voglia e io cosa gli dico no gli dico va bene non fai niente oppure gli dico guarda non esiste cioè io se fosse per me sono molto itleriana per cui dico cioè sei stata a casa tre mesi hai fatto la scuola non puoi mica stare a casa due mesi senza fare niente troviamo un campo estivo da qualche parte vediamo se vai con gli amici ma vai se non ci vuoi andare ci vai lo stesso però mi chiedo fino a quanto questa dinamica è vincente e l'altra domanda che faccio è anche questa cioè io l'idea di avere un ragazzino che è entrato nella preadolescenza adesso a casa due mesi mi esaurisco cioè io lavoro a casa mio marito abbiamo tutti e due lo smart working è anche una questione di sopravvivenza mia di genitore cioè che questo non mi faccia niente tutto il giorno ma anche no quindi come mi muovo come dire c'è la sua libertà però ha 13 anni ne fa 13 come mi muovo io va bene dobbiamo rispondere subito c'è un'altra domanda c'è Alessandro e poi insieme sono collegati due domande sì mi sentite sì la domanda in effetti è molto collegata nel senso che noi abbiamo sperimentato negli ultimi tempi un po' una mancanza di comunicazione una difficoltà di comunicazione che probabilmente era già esistente come accennava all'inizio però una delle cose che ci ha colpito di più ultimamente è che come dire c'è un delicato equilibrio tra una pretesa che noi abbiamo come dire rispetto alla realizzazione dei nostri figli cioè a come a come li vorremmo che per certi versi è un positivo perché abbiamo un ideale per come vorremmo che i nostri figli si ponessero nel mondo dall'altra rischia di essere una pretesa cioè nei tempi nei modi per cui è un equilibrio da cui forse se lei ci aiuta su questo punto le siamo grati perfetto grazie allora Elena che domanda complessa se è stato tre mesi a fare niente è la nostra interpretazione di adulti beh ragazzi non ne possono più di questa scuola a distanza proprio ieri parlavo con un liceale e mi diceva oh ma oltre il fatto che siamo a casa ma devono anche torturarci con la scuola no l'ho trovata interessante come questione no cioè mi ha ribaltato la prospettiva cioè lui mi diceva sto già facendo la fatica di stare a casa no e in più devo vedermi anche questo qua che è il nostro faccione della prof davanti che mi tiene lì cinque ore perché mi distrago anche in classe figurano i cinque ore lì per cui gioco con Nintendo Switch per cui a me piace tantissimo i ribaltamenti poi cerco di metterli anche nei miei romanzi perché parlare con i ragazzi ci ribalta la prospettiva in realtà lui si riteneva già vessato dall'essere a casa per cui questa idea è tre mesi che si è a casa a fare niente probabilmente non è detto che sia una situazione in cui lui è stato davvero comodo che gli sia piaciuta anche se poi dentro ci ha navigato abbastanza bene per cui questo era solo un inciso cosa fare nei prossimi due mesi allora è lei che conosce il suo figlio io non lo conosco dobbiamo capire se c'è un caso con i ragazzi in cui una modesta o moderata forzatura equivale a un prestito di energia equivale a possiamo usare l'espressione a dare il là equivale a dare una spinta per mettere in moto allora provi lei a capire iscriverlo d'ufficio funziona funzionerà come questo prestito d'energia per cui se lo lascio a te mi dici di no però immagino posso ipotizzare che con questa spinta che all'inizio ti forzo un pochettino poi di fatto immagino o presumo che tu possa gustartelo e poi possa starci bene in quella situazione piuttosto che poi vai e fai l'inferno io non conosco com'è questo ragazzo ma posso anche immaginare che c'è uno che dice ah sì se è già arrabbiato vendicativo dice sai cosa ti dico farò l'inferno mi farò cacciare piuttosto per cui non so a che punto di caparvietà è il figlio di Elena E e questo questo lo sa lo sa lei può darsi che sia se l'ipotesi è favorevole il prestito d'energia è la formula più interessante guarda anche se non vuoi io poi sarei molto onesto con lui dicendo non ne possiamo più di averti in casa perché noi lavoriamo quindi vai lì cioè è è un buon incentivo questo cioè non non sarà un trauma come con i genitori che dicono ah devi andare a dormire perché sei stanco poi il ragazzo il bambino ti guarda e dice scusa lo so io se sono stanco cioè se tu che sei se sono stanco io il verso è dirgli guarda adesso vai a dormire perché non ne possiamo più cioè io e papà vogliamo stare un attimo tranquilli e tutto il giorno che stiamo con te vogliamo vederci a casa di carta oppure vogliamo chiacchierare vogliamo fare l'amore vogliamo bere un whisky vogliamo ricevere gli amici vogliamo fare le cose nostre a quel punto è più tollerabile per un ragazzo o per un bambino soprattutto sentirsi dire adesso vai a letto perché ti vogliamo archiviare piuttosto che no vai a letto perché sei stanco quindi veda lei io sul visto anche la sua assertività nel dire guarda che noi due mesi così io e mio marito non riusciamo a lavorare questo può far parte del lavoro che si fa con lui dicendo guarda ascolta di nuovo ci troviamo in questa situazione ci troviamo in una situazione in cui io e il papà io e la mamma noi dobbiamo lavorare a casa in cui guarda io non riesco a vederti un dollare per casa quindi fai siamo all'età al limite per no fra un po' non potremo più farlo valutile Elena se può ancora farlo o se non può farlo se può farlo lo faccia se non può farlo si faccia aiutare da qualcuno cioè deve trovare deve trovare degli alleati se no saranno due mesi difficilissimi anche per lui è poveretto perché essere a casa con voi due che lavorate nervosi non è bello neanche per lui mentre la domanda sul figlio è una domanda che a me piace molto perché quando il figlio ideale anzi quando il figlio reale si scontra col figlio ideale ne esce fuori con le ossa rotte ognuno di noi che si è dovuto scontrare con un'immagine di figlio ideale ne esce fuori con le ossa rotte io l'ho ben presente perché non piaceva mio padre per cui mio padre mi voleva sciupa femmine io se una ragazza mi guardava diventavo rosso mi voleva sportivo invece era un patatone mi voleva modaiolo invece era tutto al black ma quando black era depresso non era non era fashion per cui era esattamente il figlio che lui non desiderava per lungo tempo e ho proprio vissuto questa difficoltà di uno sguardo che gli impediva di vedere i miei talenti mi voleva calciatore ma lui non si è mai accorto che era uno straordinario patinatore sul ghiaccio ma questo per lui non era interessante non era neanche uno sport da uomo probabilmente mi voleva appunto sciupa femmine non si accorgeva che si accorgeva solo che avevo le ragazze mi mettevano molto in imbarazzo ma non si accorgeva della mia capacità di relazione in altri ambiti allora dobbiamo sempre stare attenti a che l'idea che ci siamo fatti di nostro figlio non offuschi non offuschi quello che c'è e ci impedisca che noi ci focalizziamo sulle cose che mancano quello vorrei X poi guardate ci possiamo mettere qualsiasi cosa lo voglio morigerato sciupa femmine leader remissivo sportivo intellettuale cioè ognuno può metterci una X ateo cattolico possiamo metterci davvero qualsiasi cosa il rischio è che quella X diventi così ingombrante che noi non vediamo davvero quello che è e alla fine non lo conosciamo non conosciamo i talenti che ha non conosciamo i desideri che ha perché magari poi non ce li racconta neanche più io ricordo bene la mia esperienza ma me lo dico con tanti ragazzi che vengono da me a trovarmi a un certo punto smettono di parlarci smettono di parlarmi perché 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 penso che non sono interessante perché penso o addirittura penso che quello che desidero sia sbagliato e guardate che entra una contraddizione tremenda qua il soggetto che pensa di desiderare cose sbagliate quindi che inizia ad avere un dubbio sistematico sui suoi desideri è un pensiero che è davvero messo in crisi è un pensiero che viene messo in scacco questo perché poi non saprò più cosa cosa mi piace cosa non mi piace cosa è buono cosa non è buono allora rispetto alla sua richiesta è inevitabile che noi abbiamo delle aspettative è inevitabile che abbiamo che abbiamo dei desideri ma ma dobbiamo stare al figlio reale dobbiamo stare al figlio reale per coglierne tutto il valore ci aiuterà su questo se siamo genitori biologici ci aiuterebbe su questo se ci considerassimo anche contemporaneamente genitori adottivi perché i genitori adottivi almeno hanno un vantaggio almeno i genitori adottivi hanno un grandissimo vantaggio che non cascano nel trannello di sangue del mio sangue e carne della mia carne ossia che deve diventare mio figlio fotocopia cioè il figlio che ho in testa io simile a me almeno il genitore adottivo ha questo vantaggio che ha sempre davanti il fatto che suo figlio è altro da sé e altro da sé vuol dire così libero da prendere anche strade diverse ma poi noi faremo bingo se contemporaneamente ci ritenessimo oltre che genitori adottivi anche genitori affidatari perché i genitori affidatari cioè l'affido che va bene al contrario di quello che si pensa non è l'affido che poi ce lo teniamo questo bambino ma l'affido che va bene è quello che lo restituisce l'affido che va bene è intanto che la tua mamma e il tuo papà che sono messi male si rimettono a posto intanto che si curano intanto che fanno il loro percorso intanto che tornano nella loro capacità genitoriale tu stai con noi ti accodiamo ti amiamo ti vestiamo ti facciamo studiare ti trattiamo come nostro figlio ma poi quando il tuo papà e la tua mamma staranno bene noi ti restituiamo a loro allora il genitore affidatario è quello che non solo come il genitore adottivo non casca nel tranello che il figlio è suo ma c'è anche l'idea che ce l'ha temporaneamente ossia che ce l'ha per un po' e quel compito è poi di darlo di darlo ad altri di affidarlo ad altri di lasciarlo andare per la sua strada quindi forse se noi riuscissimo a capire cosa vuol dire anche se siamo genitori biologici di considerare il nostro figlio come se fosse adottivo affidatario riusciremo ad avere quella distanza che ci permette di non scandalizzarci dei loro errori semmai capire come fare per correggerli ma soprattutto che ci permette di guardarli per quello che sono non accecati da quello che manca ma realmente curiosi di scoprire e orgogliosi di trovare quello che c'è forse anche un punto piccolo lontano da quello che abbiamo in testa noi perché poi guardate che i ragazzi questo detto c'è in diversi dialetti però in italiano dice i pidocchi fanno pidocchi soldi fanno soldi i pidocchi fanno pidocchi le macerie non si parte dalle macerie cioè anche nelle situazioni più difficili si parte solo dai successi per cui per ogni ragazzo soprattutto per quelli che sono in difficoltà bisogna provare un punto di successo di ripartenza che può essere lontanissimo da quello che noi pensiamo può essere che è bravo a calcio può essere che ha una manualità strepitosa nel ritagliare la carta può essere che impara facilmente una lingua può essere che ha tanta inventiva può essere che è un grande lettore può essere che monta e smonta motori può essere che è un amico generoso quindi saper cogliere qual è il punto di successo individuale da cui ripartire il successo che permette di fare altri successi richiede uno sguardo vergine richiede uno sguardo che non si fissa su un'idea o su quello che manca ma è alla ricerca quel passaggio dei Vangeli Apocrifi che abbiamo sentito citare di Gesù che passa per strada che c'è la carogna di cane e gli apostoli lo vogliono allontanare lui va avanti e dice guarda che denti bianchi cioè guarda che denti bianchi è una carogna di cane puzzolente ma c'era un punto positivo su questa cosa in realtà lì se c'è un punto positivo e non ha carogna adesso c'è qualunque figlio ne ha a milioni di punti positivi e che a volte non li guardiamo o non li vediamo grazie ti ringrazio proprio perché non accecati da quello che manca ma curiosi e orgogliosi di quello che c'è ti ringrazio concludiamo poi concludiamo un'ultima domanda farò una risposta provocatoria rispostina lapidaria e poi basta vado vai Tommaso Esposito sì ciao allora la mia domanda è come diceva Marcello un po' provocatoria nel senso che io avevo figli grandi di 17-20 anni però la mia domanda è relativa a a tutto questo tasso di preoccupazione che vedo crescere negli ultimi anni da parte dei genitori nel senso che comunque 50 anni i miei genitori mai si sono trovati sottoposti a incontri a seminari a libri di questo genere quindi la mia domanda è ma il problema è nella fragilità dei genitori o nella fragilità dei figli cioè nel senso che tutta questa necessaria scuola che dobbiamo fare e il tasso di preoccupazione anche di menate a volte che diciamo ci costruiamo intorno a questo quest'avventura educativa da cosa la cosa scaturisce insomma allora da cosa scaturisce è il tema di un seminario di con 12 relazioni quindi non lo non lo affrontiamo allora c'è va di pari passo una una fragilità nostra la nostra fragilità va di pari passo con le ansie e le preoccupazioni che abbiamo sui figli questo 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 lo credo questo lo credo ma anche perché anche perché arriviamo da tutta una da tutta una cultura della dell'infanzia nuova e della e della giovinezza che fa della fragilità e della debilità il presupposto dei più piccoli senza fare apologia senza fare apologia del lavoro minorile i bambini venivano mandati nei campi a raccogliere la frutta e non era traumatico e non era traumatico allora auspico un mondo dove i bambini possono andare a scuola e non a lavorare ma non c'era l'idea di un'infanzia o di una di un'infanzia o di una giovinezza così fragile che può essere traumatizzata che deve essere protetta anzi anzi abbiamo dimenticato abbiamo dimenticato che i più piccoli partono bene di fatti o prendiamo cioè o l'invito evangelico a tornare come bambini è un invito serio o è una sciocchezza cioè tornare come bambini non è un infantilismo di ritorno cioè non è se non tornerete no se non tornerete bambini ma se non tornerete come bambini non tornerete come bambini vuol dire come pensano i bambini i bambini pensano che il bene è sempre ricevibile cioè i bambini pensano che il bene viene sempre da un altro questa è la caratteristica del pensiero del bambino il pensiero del bambino non ha nessuna obiezione a pensare che il bene non se lo da lui e gli arriva da un altro perché non ha fatto esperienza da subito fin da neonato fin dall'attante che gli arriva dall'esterno gli arriva da un altro allora piuttosto che pensare al bambino come debole e fragile poi non sappiamo che questo bambino potrà essere ingannato per cui la sua ingenuità quando trova l'adulto cattivo che se ne approfitterà verrà rovinata ma anzi se ne approfitterà ma l'idea è proprio questa che l'adulto ha da imparare da questo bambino che ritiene fragile una posizione umana che è quella del del pensare che non fa tutto lui e del pensare appunto che il bene viene ricevuto allora in questo senso l'invito a tornare come bambini ha davvero un senso perché tornare a pensare di essere innestati sull'altro innestati sull'apporto sull'apporto che dall'altro quindi quest'idea che che i nostri figli siano così fragili e così bisognosi di noi io la farei un po' cadere la farei quasi ribaltare nel senso che se noi guardassimo a loro fin tanto che non sono ancora corrotti e non sono diventati vicinici come noi invece è dai nostri figli che noi possiamo imparare e abbiamo sentito dire più di una volta che i figli sono l'ultima occasione che noi genitori abbiamo per correggerci quindi piuttosto che preoccuparci troppo per loro l'invito è a guardare alla grandezza che sono quando sono bambini ma ancora quando sono adolescenti questo cuore grande pieno di desideri che vuole incidere nella realtà che non è mai sdraiato anche quando ci sembrano sdraiati per cui ribalterei la prospettiva che non solo non sono fragili ma le nostre fragilità potrebbero essere guarite curate se riuscissimo a riavere lo stesso sguardo che hanno loro sulla realtà bellissimo grazie grazie mi spiace ma è tardi dobbiamo concludere anche se domani è festa poi non abbiamo il ritorno a casa visto che siamo già a casa ma dobbiamo concludere lo stesso e io voglio ringraziare l'associazione genitori la scuola il collegio della Guastalla per questo incontro professor Valenti che è stato presente per gran parte dell'incontro dell'incontro ha dovuto un esempio di questo modo che ormai abbiamo ha dovuto andare in un'altra riunione quindi ci saluta ci ringrazia e ti ringrazia e niente ci sono un sacco di domande che non abbiamo potuto porti ma un buon incontro è quello che apre le domande esatto un buon incontro è quello che apre le domande e vediamo i rapporti tra di noi continuano a esserci e quindi possono diventare strumento di lavoro nel dialogo tra di noi nella classe con i professori con i dirigenti con le prestiti con tutti poi se raccoglieremo una questione particolare magari te la porremo ma di sicuro non ti mandiamo tutte le domande perché altrimenti no altrimenti sarebbe un venir meno a quello che è stato questo incontro perché questo incontro è proprio un inizio di lavoro tra di noi con tutti quelli che vogliono quindi ti ringraziamo ancora e ti salutiamo e buonanotte a tutti io vi ringrazio arrivederci grazie ciao ciao a tutti ciao